Grazie Presidente, molto velocemente ringrazio la consigliera Baglio per gli apprezzamenti rispetto alla qualità del lavoro che ovviamente non porto per esclusivo il mio merito ma grazie alla collaborazione del staff della Commissione e di tutti i commissari della Commissione stessa. Come già lei ha ribadito anche la maggioranza ovviamente preferisce un iter che non richieda il ricorso a comunque strumenti che il regolamento mette a disposizione, tuttavia a volte si creano le condizioni per cui il lavoro di preparazione istruttoria o di una delibera importante richiede del tempo e poi si può arrivare al ridosso del momento in cui non è ulteriormente rinviabile perché questi sono fondi che vanno a coprire delle esigenze importanti prevalentemente dei municipi sia sulla spesa corrente, servizi sociali che su opere che riguardano prevalentemente manutenzione straordinaria delle strade su cui spesso anche con le opposizioni ci confrontiamo ovviamente da posizioni, ruoli e idee non proprio a volte coincidenti. Però siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna fare delle cose per poter migliorare la vita dei cittadini e di questa città per cui il nostro intervento è favorevole all'inserimento nell'ordine dei lavori di questa delibera. Grazie. Grazie.